Cosa ci hanno annunciato? Oggi insieme a Mobit, che è un'altra consorzio in cui sono riunite le aziende di TPL della Toscana, abbiamo deciso di fare una conferenza stampa per informare di due passaggi che riguardano l'annosa vicenda della gara regionale del trasporto pubblico. Il primo è che, diversamente da quello che è stato riferito su molti articoli di stampa, su molte testate e anche in alcuni comunicati pubblici, il contenzioso è tutt'altro che esaurito perché il 26 febbraio, quindi fra tre settimane, in Altar Toscana è di nuovo in udienza l'impugnazione per l'annullamento della giudicazione fatta dalla regione toscana e noi sosteniamo che gli stessi vizi che avevano portato all'annullamento della prima giudicazione e permangono nella seconda offerta presentata e quindi ci auguriamo che il TAR individui nuovamente in questa seconda udienza. In ogni caso, sia noi che Autolinea Toscana e qualunque sia l'esito del TAR Toscana su una gara di questa rinevanza, come potete ben immaginare, ricorreranno al Consiglio di Stato e quindi è presumibile che questo contenzioso non si esaurisca se non entro la fine di quest'anno. Nonostante questa tempistica e queste materie molto serie che sono oggetto del contenzioso, ieri abbiamo discusso con la regione toscana della proposta di programma di trasferimento di tutti i beni, tutti gli asset essenziali delle attuali aziende al nuovo gestore che secondo quel cronoprogramma avverrebbe prima di quelli che sono i tempi previsti per l'esaurimento del contenzioso. Per questo noi oggi abbiamo convocato questa conferenza stampa per ribadire l'appello ad aspettare la fine dei contenziosi perché trattandosi di un servizio pubblico essenziale di cui le società coinvolte sono prevalentemente società a partecipazione pubblica, riguardando imprese private che sono la storia di questa regione, crediamo che sia doveroso e di buona prassi attendere la fine dei contenziosi. La seconda cosa è che per non essere solo oppositori, per dare la sensazione che ci si voglia semplicemente mettere di mezzo, rallentare un processo eccetera, ieri abbiamo presentato una controproposta a questo programma di trasferimento dei mezzi, una controproposta che prevede che si attenda alla fine dei contenziosi che questi passaggi avvengano in continuità. Che cosa vuol dire in continuità? Che non avvengano con il trasferimento, la compravendita presso notai di beni, immobili, bus, cespiti, magazzini e quant'altro, ma con dei trasferimenti mirati di parti o tutto di rami di azienda che consentano di dare il massimo di garanzia della continuità del servizio, risolvano tutti i problemi che stiamo incontrando nel capire quando finisce uno, quando comincia l'altro, chi disdice le assicurazioni, chi disdice i contratti di fornitura. Immaginatevi 5.500 dipendenti che alla mezzanotte di un giorno lavorano per 14 aziende diverse che il lunedì mattina del giorno dopo lavorano per una nuova azienda e tutto dovrebbe funzionare dal primo giorno, il software, le procedure eccetera eccetera. È uno scenario fantascientifico che nessuno ha mai fatto in Europa, questa è la gara più grande mai fatta per un servizio simile e noi riteniamo con buon senso che per tutelare i cittadini un'unica tipologia di trasferimento possibile sia questo. Ci mettiamo a disposizione, abbiamo proposto un tavolo ad Autolinea Toscana per discutere di questa soluzione, ovviamente con la condizione minima che può essere richiesta e che tutto questo accada dopo che sono finiti i contenziosi.